La grande emergenza sanitaria che abbiamo vissuto ci ha messo di fronte alle nostre responsabilità ambientali, sociali, educative ed economiche, lo ha affermato il Vescovo della Diocesi di Tejano Policastro, padre Antonio De Luca, che facendo una riflessione sulla parziale uscita dall'emergenza e sul ritorno alla normalità, ha evidenziato che il contagio e la diffusione del virus hanno mostrato che la famiglia umana è sottoposta ad una insidiosa minaccia che riguarda il futuro e la sopravvivenza della vita sulla terra. Sull'attesa del vaccino, padre Antonio ha ricordato che esistono altre urgenze che richiamano l'attenzione all'impegno per la giustizia, l'accoglienza e l'integrazione dei soggetti fragili e vulnerabili della società. Possiamo metterci sulla via del superamento della crisi sanitaria, ha affermato, ma non con l'intento di rifare le cose come prima, recuperando la gioia del servizio, nell'educazione, nella sanità, nella tutela degli anziani, dei giovani e del lavoro. Infine, padre Antonio ha fatto anche il punto sulla ripresa delle attività ecclesiastiche e della celebrazione dei sacramenti in tempo di emergenza sanitaria. Siamo precipitati in una crisi socio-ambientale sanitaria. Papa Francesco ci ricorda che tutto è connesso. Ecco perché siamo entrati in questa tempesta, così viene definita da Papa Francesco, e ora per fortuna preghiamo e speriamo di poterne venire fuori. Abbiamo appreso che non siamo onnipotenti, abbiamo appreso che siamo tutti vulnerabili, abbiamo appreso anche che il virus non guarda le religioni, i confini, la politica, siamo tutti umanamente sovraesposti perché dobbiamo riscoprire quella grande visione di famiglia umana e universale. La prima grande lezione è la solidarietà, sentirsi gli uni accanto agli altri. Papa Francesco ha detto che noi non possiamo avere la presunzione di vivere sani in un mondo malato. In questo tempo Dio ha parlato, Dio ha parlato nella pandemia, Dio ha parlato con la pandemia, Dio ha parlato della pandemia. E molti hanno creduto ingenuamente che Dio ci abbia puniti. No, noi stiamo raccogliendo i frutti amari di un delirio, di una tracotanza che ci ha fatto massacrare le relazioni sociali, le relazioni con l'ambiente e ha fatto crescere un'economia dello scarto che impoverisce gran parte del mondo. Ecco perché è necessario che solamente un'alleanza, una riscoperta della solidarietà, di un'antropologia solidale e accogliente possa dare futuro al mondo. O ci salveremo insieme, o periremo tutti insieme.